Mi chiamo Matt Schultz e sono un astronomo all'Università del Delaware negli Stati Uniti. Il mio campo di ricerca è quello delle stelle massicce e magnetiche, stelle grandi, calde e luminose con campi magnetici forti quanto quelli di una risonanza. La luce emessa da queste stelle strappa gli elettroni agli atomi, li spara tutta attorno a formare una nube di particelle cariche. È ciò che chiamiamo plasma e, muovendosi a velocità pari a migliaia di volte, quella di un proiettile dà vita al vento stellare. Se una stella dispone di un campo magnetico, il vento stellare vi rimane intrappolato all'interno, formando così una magnetosfera. Alcuni anni fa, io e il mio collega italiano Paolo Leto abbiamo iniziato a raccogliere dati su queste stelle. Eravamo ormai alla fine dei nostri rispettivi progetti quando ci siamo accorti di essere giunti in modo del tutto indipendenti alla stessa conclusione. Un parametro cruciale per risalire alla luminosità in banda radio di una stella è la sua velocità rotazionale. È infatti sufficiente conoscere tre cose, la dimensione della stella, la forza del suo campo magnetico e appunto a quale velocità ruota per riuscire a prevederne la luminosità. Una conclusione sorprendente, perché il modello che tutti stavano usando non dava alcun peso alla rotazione. Il professor Stan Woky dell'Università del Delaware si è reso conto che questo fenomeno deve essere correlato al cosiddetto breakout centrifugo, che si verifica quando si spezzano le linee del campo magnetico, evento che scarica sul plasma una grande quantità di energia e accelera gli elettroni fino alle velocità richieste per produrre emissione in banda radio. Per gli astronomi si tratta di un risultato di rilievo perché indica che le osservazioni radio possono essere usate per trovare pianeti extrasolari sconosciuti. Lo studio di queste rare stelle magnetiche potrà anche aiutarci a comprendere meglio la magnetosfera terrestre e i fenomeni che in essa avvengono, compresi quelli che possono mettere a repentaglio le comunicazioni satellitari e persino provocare blackout nella rete elettrica. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori